Ciao a tutti ragazzi, io sono X-Roy9 e oggi c'è un nuovissimo video di Rocket League episodio 8 Come vedrete, oggi è uscito il video episodio 7 No, qual'era? 6 o 7? C7 E dove ho incontrato un sovrano dei razzi che era Nabbo E perciò mi sono incazzato molto e mi ha fatto perdere la partita Perciò in questo video ci dovremmo rifare Andiamo Ed eccoci qua in partita Speriamo che questo sia più forte di quell'altro che abbiamo incontrato Però non mi si è accorto che ha scritto T, ragazzo Ok Dai Moto, se ne scatta due No, ho fatto la cazzata qui Volevo fare il sombrero, come importa Ah, perché l'ho fatto esplodere, ma ci ho detto grazie Bello, è l'aereo presidenziale Molto bello, come comincia la bella giornata Un'aereo presidenziale che fanno un bolo così Attacca, attacca, attacca E' entrato nello scorso episodio Mamma mia, qua ci ha salvati però Qua ci ha salvati Oh Lo aereo liscia No, ho fatto il cuore E' entrato, in pancia Ma ci ha salvati Non, non è ovelo Lo aereo lucio Ma no, ci ha guardati E' entrato, in pancia Alla settimana E' entrato, in pancia ci sono andato ci vado no se segnava così madonna mia al tiro e questa non la poteva parare bella 1 e 0 non me la leggo dal ruolo guarda di 200 campi non me la leggo mi ha dato un po' finito non ci pensiamo a giocare no che cazzo piato palo meno semplice come ho fatto a sbagliare andrei a terminare con il panno no la sto prendendo guardatela guardatela dai non ho appiccato il piccolo turbo per andare e non ho appiccato il turbo cosa sto dicendo oggi eh la madonna non ci credo non ci credo palo oh bello bella bel tiro piaciuto piaciuto bella frate o lasci sempre vincente mamma mia mamma mia pigliala bella no si è fatto del turbo bella bella tira si grande vai che ribattiamo la situazione nel scorso episodio che noi stiamo perdendo con un gol e avversari mi sono perdendo con un gol dai oh che bella manezza oggi ho c'è già di manezza vai non 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 devono signore non devono signore non devono signore oh non io non so quello che fanno perciò fa niente non 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 ho sbagliato perché mi sono messo davanti mamma mia cosa l'ho tolto levati non segna non segna qui iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mettete un bel like al video bella